Di mezzo c'è quella data fatidica il 18 giugno in cui ad esprimersi è chiamata addirittura la Corte Costituzionale su una legge che impedisce il doppio mandato, c'è dagli afori chi è già stato all'interno del Consiglio dell'Ordine, solo che la campagna elettorale, visto che si vota a fine giugno, è già iniziata, due gruppi che si contendono il Consiglio, quello guidato dagli avvocati Ciraulo e Villari e quello guidato dall'avvocato Vermiglio che rappresenta in un certo senso l'opposizione, l'Aiga, l'associazione Giovani Avvocati, nei giorni scorsi ha tenuto una conferenza stampa e ha chiesto il rinvio delle elezioni, citando altri ordini che avrebbero rinviato. Nel mirino la candidatura di consiglieri che secondo l'Aiga in violazione di legge andrebbero ad una seconda candidatura che rappresenterebbe un secondo mandato. In gioco chi governerà il Consiglio dell'Ordine nel prossimo quadriegno. Ieri sera la risposta del gruppo di avvocati guidati dal Presidente Vincenzo Ciraulo, di cui fa parte il motore del settore formazione Giovanni Villari. Non corrisponde al vero che tutti gli ordini nel resto del Paese scrivono gli avvocati Ciraulo, Villari, vada la Bertini, Cammaroto, Celeste e Santoro abbiano già deliberato il rinvio. In diverse città, Roma, Palermo, Lecce, Napoli, Benevento, Latina, Rovereto, per citare solo alcuni casi, si sono invece già svolte le elezioni e in altre a Catania si terranno nei prossimi giorni. E inoltre non corrisponde al vero che chi sceglierà di candidarsi lo farà in palese violazione di legge. La legge che i colleghi consiglieri autodefiniti su opposizione si affannano a richiamare non prevede l'incandidabilità. E poi spiegano, le elezioni devono svolgersi entro il mese di luglio e sono stati gli stessi consiglieri, che oggi chiedono a gran voce l'invio, a sollecitare con insistenza che si tenessero al più presto sulla scelta di ricandidarsi. Gli avvocati Ciraulo e Villari spiegano, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, quelli come noi che in questi anni hanno dato anima e sangue, hanno deciso di ricandidarsi, continuando il percorso intrapreso per l'avvocatura e per la città, e sono pronti ad adottare le scelte conseguenziali in selito alla decisione della Corte Costituzionale. E concludono, ci sarebbe piaciuto vedere chi sarebbe dovuto essere al governo dell'ordine, governare appunto, al posto di fare eterna e sterile opposizione.